no va bene mister olimpia 2008 eccolo qui se uno ha un addominale migliore di questo che si faccia avanti signore e signore aspetta che lo inquadro... aspetta di fronte, di fronte, di fronte, di fronte, basta un po' di petto un po' di petto, un po' di petto, un principio di petto, un principio di petto basta, 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 un saluto, un saluto, allora quindi non faccio vedere la faccia ma rimane l'addome ok